Gigi, cos'hai preso nel compito di recupero di mate? Ho preso... 3, 4, 5... Ho preso 10! È impossibile! Tu sei impossibile, Tina. Ma devo ammettere che è stato anche merito tuo. Con i tuoi esempi sono finalmente riuscito a capire i limiti, le derivate e anche la trasformata di Laplace. Wow! Però secondo me in italiano continuerai a prendere meno 2. C'è un'altra cosa che ho capito grazie a te, Tina. Cosa? La fortuna che hai ad avere una sorella meravigliosa come me? No, per niente. E cosa allora? Prof, può dare una notatina che mi sta disturbando? E se la sposta anche mi fa un piacere.